Per il caldo sicuramente è importante bere almeno due litri d'acqua al giorno, cercare di fare attività fisica, però sicuramente nelle ore comunque mattutine, cioè dalle 6 massimo alle 9, perché con questi orari così, con questa affa, comunque certamente non è saggio andare a correre comunque, ma al massimo nuotare. Cosa mangiare comunque durante il periodo estivo? È certamente importante, abbiamo detto, bere sicuramente molta acqua, però prediligere le verdure e la frutta, quindi le solite comunque due porzioni di verdure e tre porzioni di frutta al giorno. Mangiare comunque sicuramente pasta e riso, però magari fare delle belle insalate comunque di riso e una buona comunque porzione di pasta sempre in quantità moderata, però magari preferirle fredde, quindi preferire fagiolini, comunque zucchine, peperoni, melanzane che sono verdura comunque di stagione. E poi negli spuntini, magari cercare di fare dei piccoli spuntini comunque fatti da noi in casa, tipo dei ghiaccioli casalinghi con della frutta, spremute d'arancia, spremuta comunque di frutta, centrifugati, sempre di frutta, anche di verdure, di sedano, di carote, di kiwi, che possono essere rinfrescanti, purificanti, però prediligere queste cose più casalinghe dal momento che abbiamo la fortuna di vivere su un'isola che ci permette comunque ancora di avere degli alberi da frutto, non prediligere certamente comunque i ghiaccioli, Sì, perché contengono comunque sorbitolo, comunque zuccheri coloranti, cioè sono poco calorici rispetto comunque alle bevande zuccherate, tipo la Fanta, la Coca-Cola, non so se si può dire, però diciamo che è sempre preferibile comunque dal momento che magari possiamo comprare una qualche centrifuga per fare comunque da noi a casa comunque, ghiaccioli anche comunque, possiamo, con i ghiaccioli possiamo sbizzarrirci con la qualità della frutta, insomma, proprio fatti da noi, insomma, casalinghi. Molte persone durante l'estate mangiano molte banane pensando che queste banane, insomma, tirano un po' su e fanno bene per il caldo. Lei che dice? Le banane possono essere consumate, ma sempre con moderazione perché sono ricchissime in kilocalorie. Certo comunque il potassio e il magnesio, il potassio che è contenuto nelle banane fa bene comunque ai crampi, però in realtà comunque essendo un frutto molto calorico va evitato comunque l'eccesso. Quindi un paio al giorno massimo? Anche uno al giorno.